Welcome to Hollywood Come al solito, colazione americana Non ne posso più di mangiare queste cose Ragazzi, il cibo è davvero un problema in America Ma tutto sommato, essendo italiani, ce la capiamo Oggi giornata importante Ci vengono a trovare Eric Roberts, il fratello di Julia Roberts E sua moglie, Eliza Roberts Sono due persone davvero speciali e molto gradevoli con cui lavorare E dopo aver fatto lezione con loro Ci dirigiamo finalmente alla Hollywood Sign Mi trovo qui all'osservatorio Infatti gli occhiali non salvano a niente Allora abbiamo camminato un bel po' per arrivare fin qua Però devo dire che è veramente bello E poi così abbiamo visto anche la scritta Hollywood Ora vi porto con me a vedere l'osservatorio Tra l'altro dove mi trovo ora è stata girata una scena di La La Land Che tutti conoscerete perché è famosissimo L'osservatorio mi è piaciuto tantissimo È uno dei più importanti d'America Ma ciò che mi è piaciuto ancora di più Erano i panorami con tutta la nebbia Fare le foto davanti alla scritta è stata un'impresa Perché di solito è piena di turisti Questo ragazzo è tutto matto Ma tralasciando il cappello da Santa Claus Vi ricordate quando vi dicevo che in America guidano come pazzi? Ecco questa è la prova Successivamente siamo andati a fare un giro al Farm Market È una specie di villaggio in America è molto comune Sono tipo delle grosse mall in cui ci sono un sacco di negozi Sia di vestiti che di cibo Il giorno dopo un po' di risotto per depurare lo stomaco La sera siamo andati ad un evento privato Con tanto di red carpet We're here partying, networking We're filmmakers, actors, producers e supermodel Thank you Ered carpet sia Ered carpet sia Grazie 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 Grazie